No, non ero arrabbiato con l'arbitro, secondo me è stato uno dei migliori arbitri fino adesso che ci ha arbitrato, non ha sbagliato nulla per me, per quanto mi riguarda, io ero solo arrabbiato con il quarto uomo perché non ho mai visto una panchina avversaria protestare così, sinceramente una roba incredibile, ho perso più energie a distrarmi e a guardare la panchina avversaria piuttosto che a guardare la mia squadra, Questo è Raffaele Palladino, ben ritrovati sul nostro canale per commentare Monza-Roma di ieri sera, partita bellissima, vibrante, ricca anche di spunti, qualche errore, non ho visto un arbitraggio così scandaloso come l'ha definito Jose Mourinho, Ma d'altronde siamo abituati a sentire dopo delle mancate vittorie Mourinho protestare così, è sempre stato così, lui nasconde i suoi errori, le sue magagne, le sue problematiche E dando la colpa una volta all'arbitro, dando una volta la colpa all'avversario, dando una volta la colpa ai propri giocatori anche in maniera vergognosa, vergognosa, dando la colpa alla società come peraltro ha fatto ieri nel post partita a Monza. Questo uomo qui non ha più niente di speciale come si era definito lui qualche anno fa, lo Special One, io credo che lo Special One siede in panchina a Monza, Raffaele Palladino è stata la vera rivelazione in panchina di questa stagione. Io ammiro quegli allenatori che sposano dei progetti complicati che poi li portano anche a termine, non so se nella carriera di Jose Mourinho gli è mai capitato di allenare una squadra medio piccola, non credo. Ci provi, provi una nuova sfida, ha quasi 60 anni, potrebbe anche intraprenderla, vado ad allenare una squadra come il Monza, una neopromossa, che ha ambizioni sicuramente di diventare grande e poi ne riparliamo. Protestare con gli arbitri in questa maniera è stata una cosa incredibile anche perché, come ha detto lui, l'arbitro non ha assolutamente influenzato, non ha influito sul risultato finale, quindi di cosa stiamo parlando? È il solito Jose Mourinho, come ho scritto sulla mia pagina Facebook, io credo che l'Italia possa fare decisamente a meno di personaggi come Jose Mourinho, io credo che ci siano tanti allenatori italiani, nostrani, bravi, con idee, che praticano bel calcio, ma soprattutto educati. Mi viene in mente Raffaele Palladino, posso dire di Vincenzo Italiano, della Fiorentina, posso dire di Alessio Dionisi, del Sassuolo, ve ne posso elencare tanti anche in categorie inferiori. Io credo che ci debba essere sempre, in questo Mourinho dovrebbe imparare dal Monza, dallo stile del Monza e da tanti suoi colleghi, il rispetto per l'esito finale di una partita, per gli avversari, per i tuoi giocatori, per la società e per i tifosi. Poi non lamentiamoci se allo stadio trovi gente impazzita, proprio perché sente determinate dichiarazioni. Cerchiamo di abbassare il livello, cerchiamo di rispettare i tifosi, cerchiamo anche, tra virgolette, di educarli. Quindi che impari Jose Mourinho, dallo stile del Monza, che non ha mai protestato, anzi da inizio stagione, che continuiamo a sentirci di un Monza che sarebbe stato favorito dagli arbitri, è dalla partita di Lecce che sentiamo un Monza favorito dagli arbitri. Voi ditemi una partita, una dove il Monza è stato chiaramente favorito dall'arbitro, una. Scrivetemelo qui sotto, dai, non diciamo fregnaci, il Monza è il punti se l'è sempre conquistato e con tanto sudore, anzi, anzi, se poi vado a vedere certe prestazioni arbitrali, insomma, mi viene in mente l'arbitro di Udine, adesso non mi ricordo il nome, dove il Monza ha subito un rigore all'ultimo, c'era un rigore netto, netto, su Mattia Valoti, che non è stato dato. Però non ho sentito dire Raffaele Palladino o contestare l'arbitro come ha fatto Jose Mourinho ieri, dopo la partita dello Iuparo Stadium. Io credo, ripeto, che ci debba essere sempre rispetto per tutti. Cosa dire del Monza? Il Monza è sceso in campo per la prima volta in questa stagione con la salvezza matematica in tasca, ha giocato probabilmente più libero mentalmente, secondo me l'apprezzazione è stata di assoluto valore. È vero che giocavi contro un avversario in pienissima emergenza, forse alla fine potevi fare qualcosina di più, io credo però che l'apprezzazione è stata di livello. Hai avuto anche una chance clamorosa nel finale con Carlos Augusto, l'ha avuta anche la Roma con una super parata di Di Gregorio. Io nei panni di Palladino cercherei di giocare un pochino meno dal basso, soprattutto ieri la Roma, appena Di Gregorio metteva giù il pallone e cercava appunto di far partire l'azione al basso, ti attaccava con 3-4 giocatori, mettendo in difficoltà il portiere e gli stessi difensori. Ecco, quando capitano queste situazioni cercherei di cambiare strategia. Va bene che tu hai una certa tipologia di gioco, puoi partire sempre dal portiere, per carità, niente da dire, però in certe situazioni io personalmente eviterei. Vedo un palladino che ultimamente sta confermando la fiducia nei confronti degli stessi 11, un po' perché hai vinto sempre le ultime partite. Però magari c'è un po' di stanchezza in alcuni di loro, non vedo ciurria brillante come prima, ma alcuni elementi mi sembrano un po' stanchi. Ecco, io nei suoi panni cercherei di attingere a tutte le risorse della Rosa. Credo che a Torino vedremo diversi cambi, mi piacerebbe vedere un po' più, con un po' più di costanza, anche per capire se potrà ancora fare parte di questo progetto Mattia Valotti, mentre, mi spiace dirlo, ci sono dei giocatori che ancora non mi convincono. Ieri, per esempio, è entrato Birindelli, Birindelli fa molta fatica, ha tanta corsa, ha tanto dinamismo, però quando si tratta di andare a difendere o andare a colpire nel momento dell'ultimo passaggio o nel momento della conclusione, fa, secondo me, ancora tanta fatica. Chi invece non fa fatica assolutamente è Luca Caldirola. Siamo veramente contenti per Luca, perché all'inizio stagione sembrava che fosse stato messo ai margini, l'anno scorso in Serie B ha giocato poco, poi a Perugia l'abbiamo visto invece in una delle sue migliori prestazioni, ieri è stato favoloso contro Ebram e Sochi, ennesimo gol, cos'altro da dire? Lui è Brianzolo, mi piacerebbe vederlo anche vice capitano perché comunque per me il capitano rappresenta anche il territorio, quindi è giusto che la fascia sia affidata, sia stata affidata a Matteo Pessina, però secondo me, per come vedo io il calcio, per come vedo io il Monza, il vice capitano dovrebbe essere Luca Caldirola. Senza nulla togliere a Pablo Mari, che ho avuto il piacere di conoscere a Monzello nelle scorse settimane, ed è una persona non squisita di più. Ragazzi, stiamo vivendo un finale di stagione incredibile, siamo ancora lì a lottare per quell'ottavo posto, per quella parte sinistra di classifica, godiamocela perché vedremo ancora tante belle partite, ne sono convinto, poi ci sarà tempo per parlare di mercato, ci sono già tante voci, lo faremo anche nei prossimi appuntamenti, avremo una super puntata di Binario Sport domani sera a partire dalle 20.30 con Federico Ferrario e i suoi ospiti, magari qualche accenno di mercato lo faremo, ci spiace non vedere questo abbraccio a Torino, domenica tra Ivan Juric e Raffaele Palladino che è stato, che sarà squalificato, gliel'abbiamo un po' gufata su Monza News nei giorni scorsi parlando della sua possibilità squalifica, tac, è arrivata ieri sera l'ammunizione, per somma di ammunizioni dunque sarà fermato dal giudice sportivo, ci dispiace perché Raffaele è un allenatore che difficilmente protesta, lo vedete in conferenza stampa, sempre squisito, ecco, ogni tanto gli danno fastidio le domande sul rinnovo, ma caro Raffaele preparati perché ci sarà, non dico il plotone di esecuzioni da qui alle prossime conferenze stampa, però chiaramente la domanda sul rinnovo sarà comunque sempre costante, quindi preparati, preparati bene anche a livello di contenuti come fai sempre perché comunque la domanda ti verrà sicuramente posta, anche perché dobbiamo veramente capire che cosa sta succedendo, perché io credo che è inutile che Raffaele ci risponda ma siete cattivi, no, non siamo cattivi, noi siamo giornalisti e dobbiamo chiaramente capire che cosa sta succedendo, perché noi vediamo da una parte un Adriano Gagliani, tifosissimo del Monza come noi, che spinge per il rinnovo, ok, l'ha fatto domenica, lo ha fatto poche ore prima della conferenza stampa, e un Raffaele Palladino che invece prende tempo, che addirittura inizia la conferenza stampa pre Monza, Roma, dove ringrazia tutti, a qualcuno è sembrato quasi un discorso d'addio, spero che non sia così, spero che lui abbia ancora in mente di scegliere il progetto Monza, che non abbia ricevuto un'offerta pesante, un'offerta importante in questi giorni, è così, ma magari potrebbe essere lo spunto per una domanda nella prossima conferenza stampa, mi è venuta questa idea qui mentre registravo il video, prossimi appuntamenti, binario ve l'ho detto, domani sera, binardì, cuore 20.30 con Federico Ferrario, lunedì ci vediamo a Unica Calcio Monza puntata bollente, si parlerà ancora del rinnovo di palladino, ore 21.30 del post Torino Monza, ogni giorno mi potete ascoltare su Radio Sportiva tra le 11 e le 12.30 e alla sera tra le 18 e le 19.30. Mi raccomando, se vi è piaciuto questo video mettete mi piace, iscrivetevi al canale di Monza News, seguiteci sui nostri social e soprattutto commentate. Ma come andrà a finire la telenovela palladino? Scrivetecelo qui sotto. Ciao, buona giornata.